Io, il primo anno di Dario il Medo, mi tenni presso di lui per sostenerlo e difenderlo. E ora ti farò conoscere la verità. Ecco, sorgeranno ancora in Persia tre re, poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri, e quando sarà diventato forte per le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Yavan. Allora sorgerà un re potente che eserciterà un gran dominio e farà quel che vorrà. Ma quando sarà assorto il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo. Esso non apparterrà alla progenie di lui, né avrà una potenza pari a quella che aveva lui. Giacché il suo regno sarà sradicato e passerà ad altri, non ai suoi redi, e il re del mezzogiorno diventerà forte. Ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui e dominerà, e il suo dominio sarà potente. E alla fine di vari anni essi faranno lega assieme. E la figliola del re del mezzogiorno verrà al re del settentrione per fare un accordo, ma essa non potrà conservare la forza del proprio braccio, né quegli il suo braccio potranno resistere. E lei, e quelli che l'hanno condotta, e colui che l'ha generata, e colui che l'ha sostenuta per un tempo, saranno dati alla morte. E uno dei rampolli delle sue radici sorgerà a prendere il posto di quello. Esso verrà all'esercito, entrerà nelle fortezze del re di settentrione, verrà alle prese con quelli e rimarrà vittorioso. E menerà anche in cattività in Egitto i loro dei, con le loro immagini fuse, coi loro preziosi arredi d'argento e d'oro, e per vari anni si terrà lontano dal re del settentrione. E questi marcerà contro il re del mezzogiorno, ma tornerà nel proprio paese. E i suoi figlioli entreranno in guerra, e raduneranno una moltitudine di grandi forze. L'un d'essi si farà avanti, si spanderà come un torrente e passerà oltre, poi tornerà e spingerà le ostilità sino alla fortezza del re del mezzogiorno. Il re del mezzogiorno si inaspirà, si farà innanzi e muoverà guerra a lui, al re del settentrione, il quale arrolerà una gran moltitudine, ma quella moltitudine sarà data in mano del re del mezzogiorno. La moltitudine sarà portata via, e il cuore di lui si inorgoglierà, ma per quanto ne abbia abbattuto delle decine di migliaia, non sarà per questo più forte. E il re del settentrione arrolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima, e in capo a un certo numero d'anni, egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale. E in quel tempo molti insorgeranno contro il re del mezzogiorno, e degli uomini violenti di fra il tuo popolo insorgeranno per dar compimento alla visione, ma cadranno. E il re del settentrione verrà, innalzerà dei bastioni, si impadronirà di una città fortificata, e nelle forze del mezzogiorno, nelle truppe scelte, avranno la forza di resistere. E quegli che sarà venuto contro di lui farà ciò che gli piacerà, non essendovi chi possa stargli a fronte, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà interamente in suo potere. Egli si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, ma farà un accomodamento con il re del mezzogiorno, e gli darà la figliuola per distruggergli il regno. Ma il piano non riuscirà, e il paese non gli apparterrà. Poi si dirigerà verso le isole e ne prenderà molte, ma un generale farà cessare l'obrobio che gli voleva infriggergli, e lo farà ricadere addosso a lui. Poi il re si dirigerà verso le fortezze del proprio paese, ma inciamperà, cadrà, e non lo si troverà più. Poi, in luogo di lui, sorgerà uno che farà passare un esattore di tributi attraverso il paese, che è la gloria del regno, ma in pochi giorni sarà distrutto, non nel dira né in battaglia. Poi, in luogo suo, sorgerà un uomo spreggevole, a cui non sarà stata conferita la maestà reale, ma verrà senza rumore, e si impadronirà del regno a forza di lusinghe. E le forze che inonderanno il paese saranno sommerse davanti a lui, saranno infrante, come pure un capo dell'alleanza. E nonostante la lega fatta con quest'ultimo, agirà con frode, salirà e diverrà vittorioso con poca gente, e senza rumore invaderà le parti più grasse della provincia, e farà quello che non fecero mai né i suoi padri, né i padri dei suoi padri. Distribuirà bottino, spoglie e beni, e mediterà progetti contro le fortezze. Questo per un certo tempo. Poi raccoglierà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno, mediante un grande esercito. E il re del Mezzogiorno si impegnerà in guerra con un grande, potentissimo esercito, ma non potrà tener fronte, perché si faranno delle macchinazioni contro di lui. Quelli che mangeranno la sua mensa saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà come un torrente, molti cadranno uccisi, e quei due re cercheranno in cuor loro di farsi del male, e alla stessa mensa si diranno delle mezzogne. Ma ciò non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato. E quegli tornerà al suo paese con grandi ricchezze. Il suo cuore formerà dei disegni contro al patto santo, ed egli li eseguirà. Poi tornerà al suo paese. Al tempo stabilito egli marcerà di nuovo contro il Mezzogiorno, ma quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima, poiché delle navi di Kittim muoveranno contro di lui, ed egli si perderà d'animo. Poi di nuovo si indignerà contro il patto santo, ed eseguirà i suoi disegni, e tornerà a intendersi con quelli che avranno abbandonato il patto santo. Delle forze mandate da lui si presenteranno e profaneranno il santuario. La fortezza sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che cagiona la desolazione. E per via di lusinghe corromperà quelli che agiscono impiamente contro il patto. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. E i savi fra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti dalla spada e dal fuoco, dalla cattività e dal saccheggio per un certo tempo. E quando saranno così abbattuti, saranno soccorsi con qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro con finti sembianti. E di quei savi ne saranno abbattuti alcuni per affinarli, per purificarli e per imbiancarli, sino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. E il re agirà a suo talento, si estollerà, si magnificherà al di sopra di ogni Dio e proferirà cose inaudite contro l'iddio degli dèi. Prospererà finché l'indignazione sia esaurita, poiché quello che è decretato si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo né alla divinità favorita delle donne, né ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti, ma onorerà l'iddio delle fortezze, nel suo luogo di culto. Onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio che i suoi padri non conobbero. E agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un Dio straniero. Quelli che lo riconosceranno, egli ricolmerà di gloria, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompense. E al tempo della fine, il re del Mezzogiorno verrà a cozzo con lui, e il re del Settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi. Penetrerà nei paesi e tutto inondando passerà oltre. Entrerà pure nel paese splendido e molte popolazioni saranno abbattute, ma queste scamperanno dalle sue mani. Edom, Moab, è la parte principale dei figlioli di Ammon. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi e il paese d'Egitto non scamperà. E si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. E i Libi e gli Etiopi saranno al suo seguito. Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno. Ed egli partirà con gran furore per distruggere e votare allo sterminio molti. E pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il bel Monte Santo. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto. L'angelo Gabriele ha rassicurato Daniele facendogli vedere come anche se il popolo dovrà subire tormenti, attacchi, persecuzioni un grande capo sarà sempre al suo fianco Micael. Soprattutto questo discorso vale per il tempo della fine. E qui nel capitolo 11 noi ci troviamo rinviati al tempo di Dario il Medo e il regnante al tempo del quale, ricorderete, Daniele aveva avuto la visione delle 70 settimane. Al versetto 2 del capitolo 11 si dice che nella visione si vedono tre re in Persia e il quarto ammasserà ricchezze. La storia conferma esattamente questa profezia. Abbiamo avuto in successione dal tempo appunto di Ciro e di Dario Cambise Dario Cerse, la suo ero di Esther e Artaserse che come conferma la storia era veramente ricchissimo era un sovrano di una ricchezza considerevole. La prima parte della profezia è una profezia che si applica ai tempi anteriori all'impero romano quindi ai tempi dei Medo Persiani e poi dei Greci e troviamo anche un parallelismo significativo parlando del piccolo corno di questo uomo del peccato con Daniele 7 e 8 anche in questo caso nel capitolo 11 arriva questo personaggio rappresentato dal piccolo corno e in questo caso è il re del nord quindi potremmo dire che nel capitolo 11 il piccolo corno è rappresentato da re del nord o meglio per essere più in sintonia con il dettato profetico dovremmo dire che alcune caratteristiche del piccolo corno di Daniele 7 e 8 le ritroviamo in questo personaggio che è il re del nord ecco così abbiamo spiegato meglio Jacques Ducan biblista ebraista e commentatore delle profetie di Daniele ci dice che questo capitolo 11 è speciale per la tecnica linguistica che usa facendo un salto dallo storico al profetico al simbolico quindi partendo dai primi versetti del capitolo che abbiamo visto rappresentano un percorso storico ben identificabile ripeto del periodo pre impero romano man mano che si va avanti nella lettura del capitolo ci si accorge che il conflitto rappresentato storicamente a quel tempo diviene emblema diviene in qualche modo simbolo di un conflitto che si aprirà alla fine dei tempi e i personaggi più importanti sono il re del nord e il re del sud infatti a più riprese nel capitolo 11 si dice sono cose per il tempo della fine e mentre all'inizio si parlava di persia e di grecia man mano che si va avanti l'autore sacro cambia tonalità cambia anche immagini e comincia a parlare in maniera generica di re del nord e re del sud ora per la bibbia il nord e il sud hanno delle simbologie molto precise e quindi in qualche modo hanno delle applicazioni spirituali ben precise per esempio il nord rappresenta la potenza del male che pretende di prendere il posto di dio è dal nord che proviene il piccolo corno quindi quando si parla di nord nella bibbia in genere si parla di potenze che vogliono prendere il posto di dio è al nord che risiede il dio bahal mentre per quanto riguarda il sud la bibbia simbolicamente lo identifica con l'egitto e parla di simbolicamente di persone che invece non accettano dio non conoscono dio insomma che professano in qualche modo ateismo e nel capitolo 11 vediamo che spesso qui nella storia i reni del nord e i reni del sud hanno tentato di unirsi cercare compromessi spiega ancora Jacques Ducamp che questo potrebbe essere rintracciabile come elemento nella storia proprio al tempo di Costantino quando chiesa e stato hanno dato origine a quello che noi conosciamo come medioevo una chiesa che dalle catacombe diventata ricca in quanto a cattedrali diventa anche povera spiritualmente e diventa religione di stato la profezia indica un movimento da sud a nord come se a un certo punto della storia il sud cioè l'ateismo avesse poi la meglio sul nord sulla religione diciamo così o comunque su quegli aspetti religiosi predicati portati avanti da questo simbolo del re del nord che è anche come abbiamo detto il simbolo di colui che arrogantemente si mette al posto di dio quindi è una un'area religiosa ben delimitata ben connotata se vogliamo ma in questo caso sembra che ripeto guardando al capitolo 11 di Daniele spesso l'ateismo e noi potremmo leggendo la storia dire l'illuminismo il razionalismo abbiano prevalso su quelle che sono state le aspettative e anche le prerogative diciamo così della chiesa e in questo caso intendiamo chiesa cattolica che dal medioevo in poi è diventata una chiesa universale una chiesa che si definisce anche depositaria delle verità di dio che rappresenta dio sulla terra quindi questo conflitto tra il re del nord che si arroga il diritto di rappresentare dio e il re del sud che invece elimina ogni idea di dio all'orizzonte sembra proprio storicamente rivelarsi nel conflitto tra chiesa e poteri diciamo atei o laici sembra che alla fine ci sia adombrata una specie di unione unità tra re del nord e re del sud sembra quasi che il re del sud debba essere sopraffatto dal re del nord sembra che o la chiesa divenga materialista divenga mondana dominatrice se vogliamo o in qualche modo il potere laico il potere di opposizione la chiesa scompaia non faccia più d'argine e non abbia più nulla da dire nella storia sembra che questo potere religioso alla fine organizzi instauri forse in maniera molto blanda o in maniera molto decisa non sapremo una specie di nuovo ordine mondiale in poche parole tutti si riferiranno a questo potere religioso che dominerà la scena mondiale degli ultimi anni della storia del mondo proprio il tempo indicato da Daniele come tempo della fine alla fine anche il re del sud i poteri atei laici spariranno per lasciar posto solo allo strapotere del re del nord Malachi Martin un gesuita diceva le stesse cose in una maniera forse più più dolce visto che ne parlava in positivo rapportando il tutto al pontefice Giovanni Paolo II Papa Wittila Malachi Martin diceva che quest'uomo Wittila oltre ad essere un grande religioso è stato anche uno statista se vogliamo l'unico nello scacchiere mondiale che ha saputo proporre alternative visioni progetti e non c'è niente di strano e gli afferma che questo Papa possa diventare o comunque i suoi successori visto che lui ha dato la stura a un nuovo modo di essere papi tra virgolette ha segnato la strada il cammino non c'è niente di strano che il pontefice possa un giorno diventare in effetti lago della bilancia dei poteri mondiali quindi un nuovo ordine mondiale all'insegna di un rinato cattolicesimo romano quello che le profezie di Daniele dicevano e probabilmente e senz'altro quello che si realizzerà ricordo benissimo come qualche anno fa Valentino Adornato un uomo della sinistra intellettuale di sinistra rimproverava i suoi cari compagni di aver abdicato al ruolo di teste pensanti del pensiero liberale e laico e di essersi ormai inginocchiati o sequenti al potere papale ricordo anche ancora prima che ci fosse la nascita dell'ulivo e quindi del tentativo di unire sinistre e centro un articolo di Scalfari su Repubblica il quale anche egli lanciava un appello ai laici chiedendo come mai i laici stessero debordando andando a cadere tutti nelle braccia del pontefice ed egli diceva in maniera molto colorita è forse perché vi manca un pastore ma attenzione quando le pecore cercano un pastore bisogna anche stare attenti a come si comporterà il pastore e voleva far intendere noi pecore non possiamo essere noi laici diceva o loro laici ma insomma per un certo periodo dal da una diecina d'anni ormai a questa parte i mezzi di comunicazione hanno sempre messo più in risalto questo elemento strano di questi ultimi anni appunto cioè il potere laico il potere spesso ateo i rappresentanti laici i rappresentanti dell'ateismo quasi quasi strizzano l'occhio alla spiritualità del pontefice del cattolicesimo del vaticano insomma una specie di adempimento politico comunque storico senz'altro delle parole di Daniele il re del sud il potere in opposizione a dio che si inchina al re del nord il potere che arrogantemente afferma di rappresentare dio questo è lo scontro finale e lo scontro prevederà un solo vincitore tra il re del nord e il re del sud lo diciamo adesso affinché quando avverrà ognuno capisca che ciò che Daniele aveva profetizzato era verità e quindi la Bibbia che contiene queste profezie è essa stessa verità ci sarà un solo dominatore e questa volta di nuovo il potere tornerà al papato e al vaticano non ci sarà più nessuno in giro a contrastare questo potere ci saranno soltanto delle alleanze pensiamo anche all'islam pensiamo ripeto ancora al liberalismo al laicismo ma quando un laico su un quotidiano molto diffuso in Italia afferma che ormai non c'è più bisogno del concordato tra Chiesa e Stato perché la Chiesa non è più un pericolo afferma anche e lo faceva capire che la Chiesa per esempio a differenza del laicismo e del politico che si può occupare del sociale del benessere dei cittadini a livello sociale la Chiesa può benissimo interessarsi del problema spirituale e anche perché no visto che ha molte organizzazioni di carattere umanitario di volontariato occuparsi di alcuni bisogni sociali del cittadino quindi la Chiesa diventa un partner e beh io non credo che qui bisogna a tutti i costi affermare che Chiesa e Stato debbano essere in opposizione anzi una collaborazione dovrebbe esserci sempre stata o dovrebbe essere sempre stata di buon augurio una benvenuta ma alla Chiesa non basterà fare la parte di comprimaria alla Chiesa interessa divulgare il verbo cattolico apostolico romano non è un caso che uno degli ultimi cardinali eletti da Papa Huitila sia un rappresentante dell'Opus Dei al quale ha fatto sapere che bisogna ridare al cattolicesimo il volto della romanità cioè dell'impero romano di cui parlavano le profezie di Daniele tutto si compirà basta soltanto aspettare di Daniele